Tolgono i ferri anteriori sia Danish AS e Drake, è macchina che si mette in movimento sul campo 1,35 la quota per Danish AS, la figlia di Masolmas e Fiaf De Fiori, allenata da Alessandro Gocciadoro che l'affida a Vincenzo Luongo. Un schieramento che si va lentamente componendo, partito un po' arretrato, Duca del Bar che ora raggiunge gli altri quando la macchina prende ovviamente ad accelerare, si ritrae Drake e rinuncia al lancio. Stacco che è avvenuto in questo istante con all'esterno il tentativo di Danish AS di sopravvanzare Dylan Chris. Intanto c'è stata la rottura e la conseguente squalifica di Duca del Bar e quindi Danish AS leader nei confronti di Dylan Chris e poi ancora Darwin Caff e quindi Drake. I quattro in fila indiana al completamento del primo quarto di gara che è già in rallentamento da parte della battistrada Danish AS che ora giunge al paletto dei 600 saldamente al comando sempre nei confronti di Dylan Chris. Siamo nell'ordine del 45 scarsi per la battistrada quando si va adesso ad affrontare la piegata di destra, il protone che giunge al paletto di metà gara con sempre Danish AS al comando dal fondo del protone. muove Drake che cerca ora di andare a ricucire un po' rispetto a quella davanti così si arriva al chilometro che però vede Danish AS in accelerazione. scusate va così ad affrontare gli ultimi 500 metri al comando intanto Drake è al lato di Dylan Chris mentre più indietro Darwin Caff e Danish AS a metà della piegata conclusiva tre di margine nei confronti del resto della compagnia dalla quale prova ad emergere Drake. ma in retta d'arrivo allunga Danish AS aumenta il proprio vantaggio. Drake che ha debellato la resistenza di Dylan Chris prova a fare lo spunto Darwin Caff ma per il primo posto non ci sono discussioni. Danish AS ha risolto la partita da parecchio e viene a concludere nei confronti di Drake e Darwin Caff. 42 spaccati per gli ultimi 600 metri di Danish AS sicuramente in palla la figlia di Masolmas Piaf De Fiori. presentata in ottima condizione questa volta dal team gocciadoro per i colori dell'Ors Club Montegiorgio la guida di Vincenzo Longo che nel finale gestisce appena girando il frustino ma più peraltro per tenere concentrata la cavalla che chiude con ampio margine di vantaggio nei confronti di Drake che può essere solamente secondo a precedere il numero 2 di Darwin Caff 562 l'ordine di arrivo di questa sesta corsa dell'Ippodomo delle Capannelle. Grazie a tutti.